Buongiorno a tutti, qua voglio fare un'anteprima per chiunque ci segue qua sui social, vi presento uno di due bilocali completamente arredati a Villanova, che è una richiesta che c'è tantissimo, che effettivamente ce ne sono pochi e qua riusciamo a bere addirittura due, due alloggi mansardati, tutto col trave in legno a vista, due bilocali con questo soggiorno con l'angolo cottura arredato, guardate anche che bella luce che entra in casa, con lo spazio divano, tutto diciamo giusto, parliamo di alloggi piccolini 35 metri, quindi da coppia ok, con l'attacco tv, poi qua si va nel disimpegno, hanno anche ricavato la zona per stendere, il bagno, alloggi completamente nuovi, soprattutto il riscaldamento tutto a pavimento, bagno tutto nuovo anche con la lavatrice, quindi c'è anche la lavatrice nell'alloggio, finestra triplo vetro, sanitario tutto nuovo, porteri, riscaldamento e tutto, camera da letto matrimoniale, cassettiera, sempre tutta la travatura e armadio, quindi questa è un'anteprima solo per chi ci segue tutti i follower qua di Instagram, se riusciamo a fittarlo nelle prime settimane, dieci giorni grazie a questo, bene, se no poi lo pubblicheremo appunto online, darò dei dati, sono due bilocali, uno leggermente più grande e uno leggermente più piccolo, partiamo da quello da 330 euro che è quello un po' più piccolo, questo qua quello da 350 leggermente più grande, con una quota mensile di 100 euro per consumi di riscaldamento e acqua, che verrà comunque poi diviso, contabilizzato in base al consumo, perché sotto c'è proprio sottocontatore, quindi sono disponibili subito, come li vedete totalmente reddati e nuovi, mai abitati, per qualsiasi informazione scriveteci, ciao!